Mondolfo potrà contare su un nuovo asilo nido nella zona Centocroci. Il progetto, redatto nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale, è risultato tra quelli finanziati dal bando PNRR, Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia. La nuova struttura nascerà al posto dell'attuale nido Brontolo, che verrà demolito e poi ampliato per permettere ai futuri bambini dai 0 ai 2 anni di frequentare la scuola con tutti i criteri di sicurezza. Sì, una bella notizia per tutta la nostra comunità, un finanziamento importante di 1.848.000 euro che ci permetterà di realizzare una nuova struttura al posto di quella esistente la cui costruzione risale a più di 40 anni fa. Sarà una struttura più grande, all'avanguardia, adeguata dal punto di vista sismico e dell'efficientamento energetico che ci permetterà di rispondere a una sempre crescente richiesta di nuove iscrizioni e offrire quindi ai più piccoli spazi nuovi e confortevoli. Ed è un progetto che ci permetterà di rendere la nostra città sempre più a misura di bambini e di famiglie. In questi anni stiamo dedicando grande attenzione a questo tema perché lo riteniamo un servizio essenziale per la crescita dei bambini ma anche per il supporto al lavoro dei genitori in un momento in cui quasi la metà dei comuni italiani ne risulta ancora sprovvisto. Il nuovo edificio di Via Occorsio sarà di 770 metri quadri a differenza dei 400 attuali e vedrà anche la realizzazione di nuove aree verdi con giochi e parcheggi. Per quanto riguarda le tempistiche, nel 2023 la gara d'appalto con l'avvio dei lavori mentre il termine è previsto entro dicembre 2025. Il progetto prevede una struttura più ampia che permetterà di ospitare più bambini quindi si passerà dai 36 piccoli attualmente ad un numero massimo di 60 utenti e ci sarà poi comunque spazio sia per i giardini e sono previsti nel progetto anche alcuni nuovi posti auto. In totale nella provincia di Pesaro e Urbino sono 7 le strutture finanziate come Colli al Metauro l'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo Monte Porzio, Monte Labbate, Sassofeltrio e Gradara. Tra questi il progetto di Mondolfo risulta essere quello con l'importo più corposo.